L'Asla Toscana Nord-Ovest, condannata a pagare per il decesso di un uomo in corsia avvenuto nel 2015, a stabilirlo una sentenza del Tribunale Civile di Livorno, si tratta del risarcimento a beneficio delle redi di una delle vittime dell'eparina, Bruno Carletti, l'ultima delle 14 morti sospette avvenute all'ospedale di Piombino tra il 2014 e il 2015. Il reato contestato è mancato controllo all'interno del reparto e sull'accesso alla struttura sanitaria. L'Asla dovrà versare ai familiari di Carletti complessivamente 400 mila euro, suddivisi tra moglie e due figlie. Quando è venuto il decesso, il reparto di rianimazione era da quattro mesi sotto la lente del NAS che stava indagando su una serie di morti anomale dovute alla somministrazione di anticoagulanti al di fuori delle prescrizioni mediche, morti per le quali era finita sotto processo l'infermiera del reparto Fausta Bonino, condannata in primo grado ma assolta lo scorso gennaio in appello per non aver commesso il fatto. Il 28 settembre del 2015, Carletti, 74enne, ex operaio della Magona di Piombino, dopo essere stato operato al femore nell'ospedale piombinese, continua inspiegabilmente a sanguinare. Il 29 settembre viene dichiarato morto per shock refrattario post-operatorio. Nel sangue aveva valori di eparina superiori di 4 o 5 volte rispetto ai valori terapeutici. Carabinieri e Asla non sono mai riusciti a capire cosa sia successo in quel reparto. Viene preparata anche una trappola facendo sparire tutte le fiale di eparina, tranne una lasciata nel carrello dei medicinali. Non basterà a salvare Bruno Carletti. La responsabilità dell'Asla è emersa in modo evidente per le modalità del controllo sulla struttura ospedaliere, nello specifico sul reparto di rianimazione che ha procedure d'accesso ancora più restrittive. Le carenze all'epoca dell'ospedale di Piombino erano emerse anche dall'ispezione della commissione nominata dal Ministero della Salute sotto il profilo organizzativo, gestionale e operativo. La soluzione in appello di Fausta Bonino non ha escluso dunque che esistano altri responsabili, tanti familiari di altre vittime che hanno chiesto di fare chiarezza su decessi rimasti ad oggi ancora avvolti dal mistero. Mio padre è morto, aveva una polmonite, stava guarendo e dalla mattina alla sera è morto. Non è spiegabile una cosa del genere.